Io dico che fino a 15 giorni fa i pazienti Covid erano sotto controllo, cioè la numerosità dei pazienti Covid su Asugi era minimale, presente e con la disponibilità di accoglimento in pronto soccorso, nonché di percorso, quindi secondo gravità, appropriata, con risorse ben distribuite all'interno dell'azienda sanitaria. Da due settimane il sistema sta andando in difficoltà seria e quando dico seria mi riferisco al fatto che il pronto soccorso è occupato per due terzi da pazienti Covid. Quindi significa che le risorse umane e professionali sono dedicate per due terzi in emergenza ai pazienti Covid. Nell'arco di 15 giorni non abbiamo saturato i posti letto disponibili della prima fase e abbiamo saturato in meno di una settimana le aggiunte fatte dall'azienda, sia nel reparto degli effettivi, sia in RSA, sia nella conversione della geriatria. Due giorni fa il sistema non era in grado di dare una risposta appropriata per tempistica al paziente Covid, perché avevamo inaugurato i posti letto disponibili in ospedale. Ciò ha significato che per due giorni consecutivi un numero non indifferente, e mi riferisco a più di 20 pazienti Covid, sono stati trattenuti in pronto soccorso, dove sono stati curati con un'intensità di cure appropriata, quindi più di 6-7 pazienti erano in ventilazione. Capite bene che siccome conosciamo la materia senza presunzione, cioè sappiamo di che cosa parliamo, sappiamo come si stanno comportando le epidemie e sappiamo cos'è successo in questa città negli ultimi 20 giorni, sappiamo anche prevedere che probabilmente i prossimi giorni saranno ancora più caldi rispetto agli scorsi. Credo che questa manovra che intendiamo adottare in emergenza vada nell'interesse dei pazienti Covid e soprattutto dei pazienti non Covid, che comunque continuano ad accedere in pronto soccorso. Non dimentichiamo che in pandemia i numeri dei pronto soccorso regionali e nazionali erano dimezzati. Se mi riferisco a Catinara, gli accessi di Catinara erano di 80-90 al giorno, contro i 200 abituali. In questo momento Catinara fa 180-160 accessi al giorno, più il pronto soccorso del maggiore, e in questo noi dobbiamo aggiungere i pazienti Covid, che sono almeno 20-25 percorsi Covid e negli ultimi giorni si traduce in 15-20 ricoveri al giorno. Il personale c'è, sta dando il massimo credo in qualsiasi ambito, però sono molto preoccupato perché la resistenza credo abbia un limite e se possiamo fare qualcosa per ridurre i tempi di pressione sull'emergenza di questa parte della regione, abbiamo l'obbligo di farlo, considerando che non c'è solo il Covid. e quindi credo che tutti debbano mettersi una mano sulla coscienza per poterci lasciare lavorare, non dico in serenità perché non è possibile in questa fase, ma almeno che si possa gestire in modo adeguato le urgenze e le emergenze della città. Grazie.